E' una bella realtà tutta ragusana, che davvero pochi conoscono. L'ASD Palla Tamburello Ragusa è una squadra che ha portato alto il nome della città in Europa, ma a dire il vero questo in pochi lo sanno. Sì, perché questo sport rapisce e affascina in estate sulle spiagge, ma viene dimenticato nella stagione invernale. Invece nel capoluogo ibleo, l'ASD Ragusa, da ormai più di 20 anni, domine campionati italiani e europei. Il quartetto, formato da amici storici, il capitano Salvatore, insieme a Fausto, Sergio e Alessandro, ha fondato questa squadra e l'ha portato addirittura sul tetto d'Europa. All'ombra degli sport più blasonati, questa piccola società ne ha fatta tanta di strada, fino a diventare la più temuta sui campi di gioco. La Palla Tamburello, sport sotto legge della sua federazione, la FIPT, ha un suo campionato italiano, formato da squadre in larga parte del nord Italia e che trova in Ragusa l'unica vera realtà forza del meridione. Il team del capitano Occhipinti vanta titoli vinti davvero importanti, campioni d'Italia prima e campioni d'Europa successivamente. Insomma, i traguardi più importanti nella storia di questo sport sono stati toccati tutti. E quest'anno ci riprovano. A febbraio, infatti, l'ASD Ragusa sarà impegnata nuovamente per concorrere al titolo europeo. Una bella soddisfazione per la città, che annoverà tra le sue squadre di punta anche l'ASD. Ecco cosa dice ai nostri microfoni il capitano. Per quanto riguarda il Tamburello Indoor praticato all'interno della palestra, è uno sport che è conosciuto da pochi. Diciamo che noi abbiamo le nostre spiagge, che si dilettano tanti ragazzi, tanti giovani a giocare al Tamburello ed è conosciuto soprattutto per quelli. Quali sono le prospettive per il futuro? Le prospettive per il futuro sono quelle di recuperare i giovani, un po' di vivaio che è stato trascurato in questi anni, però stiamo cercando di rimettere di nuovo su, di portare soprattutto la passione all'interno della palestra per questi giovani. A febbraio vi aspetta un appuntamento importante? A febbraio ci aspetta la Coppa Europa a Madrid e speriamo di ottenere quantomeno un ottimo risultato. Un problema dunque attanaglia la società, il suo futuro, perché purtroppo la squadra non ha nuovi iscritti e rischia di scomparire. I giovani ragusani guardano altri sport più gettonati e non prendono in considerazione la palata a Murello. L'augurio più grande è dunque quello che le pagine di questa favola, tutta eblea, continuano ad essere scritte, magari con nuovi protagonisti che sapranno portare sempre in alto il nome dell'FD Ragusa. Grazie.